È stato il mio diario segreto perché io ho iniziato da piccolina a sfogarmi con la musica, quindi tutte le mie tristezze, tutte le mie gioie, sebbene in quel periodo erano poche, le ho sfogate con la musica, con le canzoni, con la scrittura. Ecco perché è stato il mio diario segreto, perché è quella pagina che diventa tutta pasticciata e diventa un po' la tua copertina di Linus. Il mio nome d'arte ha scelto me, perché in realtà ha 13 anni, ho un'amichetta, tra l'altro, non molto lontano da qui, a Palagonia, in provincia di Catania, mi chiamò così, Levante, per scherzo. E io non avevo capito, all'inizio ho detto ma perché Levante? E poi chiaramente chiacchierando, eccetera, mi spiegò che tutto è nato dai tre personaggi del ciclone, su cui anche un po' banalmente, perché in quel periodo era uscito il film, e sono appunto quei tre che sono Levante, Libero e Selvaggia. E lei era selvaggia e io ero Levante, a me è toccato Levante. È un nome che mi ha seguita poi anche dopo la partenza dalla Sicilia e ho voluto portarlo con me proprio per ricordo, perché poi io faccio anche parte dell'est della Sicilia, quindi Levante, l'est, mi piaceva tantissimo e mi ha ancorata tantissimo alla Sicilia. Da lì non mi si è più staccato di dosso, anche appunto dopo il primo contratto in cui mi chiesero ma tu un nome d'arte ce l'hai? E ho detto no, un nome d'arte non ce l'ho, però questo soprannome Levante ci piace. E da lì è rimasto, è rimasto. Sì, è vero, è possibile, nel senso che se vuoi c'è un po' di tenerezza, di felicità e dal lato c'è quest'altra mia parte un po' oscura, un po' malinconica, un po' triste, ma credo come tutti, che si rivela nelle mie canzoni. Per cui c'è questa sorta di bipolarismo in cui dici ma aspetta, ma sta cantando una cosa in modo molto felice, però è triste il testo e allora cosa sta succedendo? E questo è quello che è stato detto di me. È stata una tragedia in realtà, no, l'ho vissuta come una persona normalissima che dopo tantissimi anni di sacrifici e lavoro durissimo si vede riconosciute determinate cose, tra cui appunto i miei sacrifici, no, al di là del talento, della bravura, eccetera, non importa, però proprio il sacrificio che finalmente ti accarezza. Io l'ho vissuta normalmente, ho continuato a lavorare al bar fino a settembre, nel frattempo ho fatto tutte le aperture di Gazzè, dei concerti di Gazzè, il Sotto Casa Tour e non mi sono mai montata la testa, ma per Indole sono una persona che sta con i piedi per terra e lavora, lavora, semplicemente. È tragedia, ti dicevo, perché in realtà sono stata etichettata in qualche modo e mai avrei voluto, perché faccio una musica che è totalmente istintiva, non sto lì a pensare, faccio pop, faccio rock, faccio indie, io faccio musica ed è quella che mi piace, in manuale di istruzione che è il mio disco, appunto, trovi veramente tante cose, quindi Alfonso ho temuto che mi portasse in una direzione che non era esattamente la mia, però è andata bene alla fine, il pubblico l'ha capito. Manuale di istruzione perché devo ammettere che è nato prima il titolo del disco che le canzoni del disco, perché sapevo che avrei raccontato un percorso della mia vita, è personale, è musicale e diciamo che è una tesi che sostengo, quella del crescere su grandi macerie, che non è poi così negativo, nel senso che io sono stata a contatto con il dolore, la sofferenza, se vuoi, da subito, da piccolina, durante la mia infanzia, però quelle macerie in realtà non sono state la mia croce, bensì degli scalini da salire per poter arrivare più in alto, questa cosa è stata anche una fortuna su voi, come si dice, quello che non ti ammazza ti fortifica, è stato proprio quello, manuale di istruzione. Allora, il primo maggio è stata chiaramente un'apparizione totalmente mia, in cui io portavo il mio disco e la mia band, eccetera. L'arena di Verona è stata immensa, però in apertura è negramaro, per cui io sono molto, insomma, so che apro un grandissimo gruppo che è la star di quella serata lì, sicuramente il primo maggio, ma per le sensazioni e il sentimento con il quale salivo su quel palco, con la scritta sul braccio e la dedica, il fatto che mio padre fosse mancato per causa di servizio, quindi per una cosa di lavoro e io quel giorno lì era la festa dei lavoratori, quindi salivo con un'emotività diversa rispetto ad altri concerti. È bellissimo e stranissimo allo stesso tempo, perché mi ritrovo a suonare a casa mia per la prima volta in apertura a Ennegramaro e dopo tantissimi anni, cioè io sono nata a Caltagirone, ho vissuto a Palagonia per 14 anni, poi l'ho lasciata, però è assurdo che ci ritorni soltanto adesso a cantare, beh lì si aprono altre questioni, è un po' più difficile suonare in Sicilia, nelle isole o al sud, però l'onore è grandissimo, perché comunque mi trovo in una situazione del genere, del teatro antico, è bello, 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 ieri è stato emozionante, questa è la seconda serata, è pazzesco. Un saluto e un abbraccio ai fan di Urban Week, io sono Levante. Ti ho visto sbadigliare, a me sembrava bellissimo.